Una tazzina di caffè, un quaderno di appunti, una cartella e la fascia tricolore sono questi alcuni degli oggetti che vanno a comporre l'opera L'incontro, inaugurata questa mattina in Darsena e dedicata a Fabrizio Matteucci, ex sindaco della città di Ravenna, scomparso il 16 febbraio del 2020 a causa di un malore. L'opera, realizzata in mosaico dai ragazzi dell'Accademia di Belle Arti su progetto di Silvia Naddeo, è stata collocata sulla panchina lungo il canale della Darsena in cui Fabrizio amava trovarsi a fine giornata con la moglie. Alla breve e toccante cerimonia d'inaugurazione, che si è svolta proprio nel giorno del compleanno di Fabrizio, hanno preso parte anche alcuni amici, i familiari e la moglie Simona, che ha ricordato con affetto i momenti passati con il marito proprio sulla panchina dove è stata posizionata l'opera. Io e Fabrizio, negli ultimi anni, quelli della maggiore libertà, avevamo un'abitudine. e il primo dei due che finiva di lavorare aspettava l'altro qua, a volte anche con un calice e una bottiglia di vino, se era stata una bella giornata. E poi ci raccontavamo la nostra giornata. Siccome Michele De Pasquale ha saputo tutto questo, un giorno mi ha chiamato e mi ha detto io, Simona, non ce la faccio, il Covid, tutto si sta constringendo, però io ho bisogno di andare avanti, voglio che ci sia un luogo che già riconosce Fabrizio. Io ho pensato al luogo dove voi vi incontravate, perché sapete, oltre a questa panchina c'è questo Leandro, che un ragazzo che viene da un paese molto lontano aveva portato come piantina piccolissima e che ha custodito per 5 anni, annaffiandola tutti i giorni, perché diceva se cresce lei ce la faccio anch'io. E allora noi avevamo deciso che qui, che era il luogo dell'impossibile, avremmo fatto il nostro raduno serale. Come non ringraziarvi di quello che avete fatto per noi in questo anno. Anche il sindaco di Ravenna, Michele De Pascale, ha ricordato la figura di Matteucci, che nonostante la scomparsa prematura è rimasto nel cuore dei ravennati. Oggi è il giorno del suo compleanno e abbiamo deciso di dedicargli questa bellissima opera realizzata con l'Accademia di Belle Arti di Ravenna, che è in un luogo magico della sua vita sia istituzionale che personale. Istituzionale perché Fabrizio è stato il sindaco della Darsena, che ha messo per dieci anni un impegno costante a rivitalizzarla, rigenerarla, ma anche un luogo della sua vita, nel senso che era una panchina dove quasi tutti i giorni si incontrava con Simona, sua moglie, per concludere la giornata insieme. Quindi c'è un ricordo semplice, ma molto molto bello, di lui e dei suoi oggetti e poi la fascia tricolore che lo ricorda come sindaco della nostra città.